...con un intervallo musicale. L'anno scorso abbiamo il violino, quest'anno abbiamo due riemi della banda di Cernusco che hanno collaborato con noi, che ringraziamo la banda per questo, per agitare il nostro pomeriggio. E i racconti e le poesie, sempre in collaborazione con il biblioteco comunale, c'è Roberto e la Marina che leggeranno le cose. E anche loro ci chiamano sempre Roberto e l'altra Ilaria. Prima di iniziare stamattina ho ricevuto un bellissimo messaggio da una mia amica e volevo leggervelo perché mi ha molto colpito. Una frase di madre Teresa di Casio intitola A te donna. Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia. La tua forza e il tuo coraggio non hanno età. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Insisti, anche se tutti si aspettano, che abbandoni. Non lasciare che si arruginesca il ferro che c'è in te. E' bellissimo, quindi bella lì. Siccome mi è molto colpito, peraltro, madre Teresa, non so se l'avete vista nelle foto, nelle immagini, è un donnino piccolino, molto minuto, ma con una forza gigantesca, cambiato. Ossia, elegia per le mie lacrime da diciassettenne. Il film che quella sera, nel 1942, si proiettava all'unico cinema del mio paese, si intottolava Carmela, che protagonista ne era Doris Duranti. Bastava quel nome, allora, a stipare le sale. Infatti, la Duranti, uno o due anni prima, era stata l'interprete della riduzione cinematografica della famosa tragedia La Cina delle Beffe, di Sam Benelli. E in una veloce sequenza si era audacemente mostrata a seno muto. Era la prima volta che questo accadeva in Italia e in tempi di austerità fascista. Si sperava, perciò, ma in vano, che ripetesse l'espluato. Anche quella sera, le speranze dei miei compaesani andarono deluse e molti, vista la piega che pigliava la vicenda, abbandonarono la sala. Io rimasi incantato non tanto dalla storia, ma dal fascino delle immagini e dalla buona recitazione della storia. Grazie. 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 Grazie.